Lupi in Lessigna, il tema ricorre. È possibile una convivenza con l'uomo? Paola Selva, laureante in scienze naturali e ospite del comando dei carabinieri forestali di Bosco Chiesa Nuova, da qualche mese sta studiando i lupi e la loro dieta. Abbiamo voluto chiederle l'impatto che può avere la loro presenza in una zona da anni martoriata dalla predazione dei bestiami. Paola Selva comprende la frustrazione degli allevatori ma, dice, la convivenza è una via praticabile ricorrendo a precisi rimedi. Nei precedenti studi della dieta si vede che è fisiologico, in un primo periodo di ricolonizzazione di un'area come quella della Lessigna, che ci sia un notevole impatto sul bestiame domestico. Questo ovviamente crea delle notevoli e comprensibili tensioni. Tuttavia è stato riscontrato anche che dopo un certo numero di anni, due, tre, quattro, cinque anni di assestamento, le predazioni sul bestiame domestico tendono a diminuire una volta che gli allevatori iniziano a mettere in atto dei mezzi di prevenzione, come per esempio l'utilizzo dei recinti o l'utilizzo di cani da guardiania. Questo certamente per l'allevatore rappresenta uno sforzo che si va a sommare ad altre difficoltà che ci possono già essere, però è stato visto in altre zone che questo è un espediente che funziona molto bene riducendo drasticamente le predazioni. Per esempio in Piemonte si è passato da un centinaio di predazioni per branco a nove predazioni per branco nell'ultimo anno, quindi direi che sì è possibile. Mentre pare impervia la strada della ricollocazione dei lupi in altre aree che rischia di fallire e avrebbe pure costi esorbitanti.